Buongiorno a tutti, come molti di voi sapranno io sono un patito di futuro e essendo patito di futuro mi sono sempre dimenticato di dirvi una cosa molto importante. Secondo voi in questo momento in cui io non mi stancherò mai di dire non siamo in un'epoca di cambiamenti, bensì siamo in un cambiamento d'epoca, il potere? Chi ce l'avrà in mano? Molti pensano ancora che il potere sarà in mano a chi avrà il denaro. Sì, è vero, il potere rimarrà in mano a chi avrà il denaro. Ma mentre nel ventesimo secolo il denaro era in mano che avevano le materie prime, oggi la materia prima più importante, più potente e indubbiamente più dirompente all'interno del mercato sono i dati. Voi non lo sapete o forse lo sapete ma non ve ne accorgete, i vostri dati di navigazione, i vostri dati di preferenze su facebook, sui social, su google e quant'altro possono essere condivisi. Permettono di fare delle profilazioni in maniera da rendervi dei consumatori molto più tranquilli perché vi vengono proprio vi vengono proposte sostanzialmente solo ed esclusivamente le cose che vi piacciono. Quindi chi avrà in mano il potere nel ventunesimo secolo? Indovinate un po'. Buona giornata a tutti! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie!